Cosa ha cambiato rispetto a ciò che avveniva negli anni 60-70, l'area 51, a questi file che sono stati desecretati, che cosa si evince? Tutto quello che sta avvenendo in questo momento è un progetto di cui fanno parte anche gli alieni non positivi? Ma gli alieni non positivi non esistono Antonio, ancora credere a queste corbellerie e solo gli sciocchi e i disinformati, cioè i manipolati possono credere a queste vere stupidaggini. Non ci sono gli alieni negativi, ma per logica lo dico. Cioè, vedi, facciamo una considerazione. Adesso, se io e te, Antonio, fossimo due abitanti di un mondo lontanissimo, un mondo che vive in pace, un mondo positivo, di brava gente e onesta, che ha sviluppato una fantastica tecnologia spaziale. Attenzione, la tecnologia veramente importante del volo spaziale non è l'astronave col supermotore a curvatura spaziale. La tecnologia, la conoscenza, la scienza che noi ancora non abbiamo è quella di riuscire a mantenere l'astronauta vivo per viaggi così lunghi. Già i nostri astronauti si ammalano solo a stare del tempo in orbita terrestre e l'orbita terrestre, l'orbita bassa nella quale si trovano, ad esempio, la stazione spaziale internazionale e comunque il pianeta Terra, perché sono dentro il campo magnetico terrestre. Ma quando noi usciamo nello spazio, il corpo umano non è progettato per stare lì, ha bisogno di gravità, perde subito muscolatura, densità ossea, perdono la vista. Noi non abbiamo la tecnologia o la scienza medica necessaria per il viaggio spaziale, ma questo non lo dice nessuno, che è la cosa più banale. Noi non abbiamo lo strumentino che c'ha Star Trek che ti fa la diagnosi così e poi il lettino magico che ti cura. La nostra conoscenza medica è talmente irrisibile che Mezzomonde è nato a panza all'aria per un virus. Quindi come possiamo noi viaggiare nello spazio, visitare altri pianeti se ancora siamo deboli e inermi nel nostro ecosistema sulla Terra? E' questo uno. Poi io e te astronauti di questo mondo esotico, remoto, ma brava gente, arriviamo qui e cosa vediamo? Vediamo bambini stuprati, squartati per vendere gli organi, le donne fatte a pezzi, usate per la pornografia, vediamo gente che si ammala per l'eccesso di cibo, mentre la maggior parte muore per mancanza di cibo, vediamo le ingiustizie sociali, vediamo la criminalità dei potenti. Quindi io non avrei paura degli alieni negativi. Se io e te fossimo degli extraterrestri... No, 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 aspetta, fammi fare il ragionamento. Ora, il nostro mondo, da che noi lo conosciamo e la storia ce lo insegna, essendo appunto un mondo di gente molto cattiva, molto brutta, è un mondo diviso dalle guerre. Nel nostro pianeta tutti gli imperi e le società costruite dagli esseri umani, che cambiano le forme estetiche, ma l'attitudine è sempre quella di essere dei delinquenti, tutti i regni del pianeta crollano. Sono crollati i romani, sono crollati i sumeri, sono crollati gli egiziani, sta crollando il capitalismo, è crollato il comunismo, è crollato il nazismo. Quindi la sciocchezza dell'alieno coeso, cattivo, ma coeso nel suo mondo che aggredisce solo gli altri, è stupida, è sciocca, è una visione infantile. Poi detto questo, ma perché ci devono essere gli alieni super negativi, cazzuti, che conquistano tutto e non ci devono essere società evolutissime, avanzatissime, con tecnologie in grado di contrastare qualsiasi diamente che cerchi di porre caos fuori dal sistema. Quindi perché non dovrebbe esistere una super polizia di gente positiva che governa il cosmo e impedisce ai fuori di testa come noi di far casino? Tant'è vero, lo dimostra la storia degli UFO, Antonio, che tutti i tentativi delle superpotenze atomiche di fare esperimenti orbitali con armi nucleari sono stati tutti distrutti dagli extraterrestri. Ecco, quindi la prova provata è che una polizia intergalattica o spaziale o chiamala tu, come vuoi, esiste. Quindi questa storia degli alieni negativi è disinformazione, manipolazione, inganno, perché è da stupidi pensare che su un tema che persino i cattivi, il World Economic Forum, dice che il fattore X che può far crollare il sistema è la visita extraterrestre, cioè la scoperta di vita extraterrestre. È sciocco pensare che i potenti non investano servizi segreti, disinformatori, falsi ricercatori o cretini che poi vengono indirizzati con la manina. Ora io non è che voglio offendere, però so stufo dopo 33 anni che io faccio ricerca a livello internazionale e di ricercatori italiani ne ho visti veramente uno o due e basta. Tutti gli altri sono leoni da tastiera o gente che si è allevata il proprio piccolo pollaio qui in Italia, ma non esistono gli alieni negativi, non ci sono. Cioè se gli alieni negativi esistono sono come noi, nel loro pianeta vanno da un caos sociale a un altro, da un caos di guerra all'altro, non ce la fanno uscire nel cosmo, perché se fosse vera questa storia noi saremmo già polpette per alieno e così non è.